Tu mangiavi i topi? No, chi mangiava i topi? E che cosa facevi? Ma no, niente, io... Che cosa facevi? Con Un'ora di tranquillità, protagonista Massimo Ghini, è proseguita la stagione teatrale 2017-2018 di Ama Calabria, al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia. Un'ora di tranquillità di Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi francesi contemporanei, un'opera definita spassosa, intelligente e geniale. Si tratta di un'opera corale, dove ogni attore deve legare la propria arte agli altri. Un uomo in cerca di solitudine, ma anche di tranquillità, pur di ascoltare un vecchio vinile. Ma una serie di eventi e personaggi lo interrompono, la moglie, il vicino di casa, il figlio, l'idraulico. Insieme a Ghini, sul palco, Massimo Ciavarro, per la prima volta in una stagione teatrale, ma anche Galatea Ranzi, Marta Zoffoli, Claudio Bigagli. Una commedia moderna, brillante, divertente. Il direttore artistico di Ama Calabria, Francesco Pollice, ha predisposto il proseguo della rassegna con un'altra pièce teatrale di ottimo livello, e cioè quella prevista giovedì 25 gennaio, con un borghese piccolo piccolo di Vincenzo Cerami, con Massimo D'Apporto. Una tragico media, che in particolare nella prima parte, regalerà momenti di comicità a tratti esilarante.